Buongiorno, attenzione, spiace bene, allora, allora, concentriamoci molto bene, allora, allora, attenzione, in questo momento non voglio stagliare perché si spagna il tempo, non voglio stagliare, ma in 10 secondi vi risponderò in quanto, noi oltre l'altro, ragioniamo con calma, sono tutti contento, sono tutti contenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.